Allora quarta carta. Allora quarta carta in realtà in questo caso abbiamo una carta verde nonostante io sia tendenzialmente ribassista sul indice italiano e penso che uno storno ci sarà come detto questa mattina durante Turbo Daily ritengo che il titolo bancario più interessante all'interno del paniere in generale più insomma un titolo sul quale si può scommettere nel medio termine sia intesa San Paolo quindi do una carta verde su intesa San Paolo ovviamente non voglio andare ad acquistarla ai prezzi attuali quindi mi aspetto che ci possa essere un ritracciamento dai livelli che stiamo vedendo in questo momento e quindi voglio entrare quando il prezzo del titolo tornerà ad essere conveniente e il livello che io ho individuato è un livello di ingresso in area 2,22, lo stop loss lo mettiamo a 2,15 il nostro target price in area 2,30 ecco intesa San Paolo a differenza di altri titoli bancari in questo momento gode anche del giudizio degli analisti che come sai negli ultimi giorni diverse case di investimento si sono diciamo si sono schierate e hanno dato dei target price interessanti con riferimento al titolo inteso San Paolo detto questo io penso che ci potrà essere uno storno nella breve quindi speriamo che queste due strategie rialziste su sp500 e su intesa San Paolo si possano attivare appunto dopo uno storno